Pierucci Elettrodomestici a Semonte di Gubbio presenta le grandi offerte del momento. Forno ventilato candy a solo 179 euro, quantità limitate. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in Via dell'Arboreto. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la giornata di giovedì 29 marzo, che sarà una giornata abbastanza soleggiata su tutto il territorio regionale. Solamente dal primo pomeriggio avremo le prime nuvole che partiranno dall'Appennino e al nord regionale, alla Alta Valle del Tevere e Gubbino Gualdese che vedranno più nuvolosità. Avremo temperature massime in aumento di 1-2 gradi che si attesteranno intorno ai 14-16 gradi e temperature minime che si attesteranno intorno ai 4-6 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.